Ci troviamo al Parco Scarpellini in cui torna finalmente l'ottava edizione dopo tre anni di stop causa Covid. Torna finalmente la festa di riuso in cui le famiglie gratuitamente dall'1 al 4 giugno potranno venire a divertirsi qui in questo splendido parco. Quattro giorni dove invitiamo tutte le famiglie a essere presenti, quattro giorni dove ci fermiamo un attimino e riflettiamo su quello che è l'operato della Gulliver nella città e nella provincia di Pesaro. Al centro il riuso e il riciclo e quindi spiegheremo alle persone come poter essere concretamente vicini all'ambiente. Tanti parlano, fanno convegni ma la cosa concreta da fare è quella di mettersi a casa con gli amici a riutilizzare e ricicare i beni che buttiamo via. Quindi da un'idea di ripeto l'invito a essere presenti questi quattro giorni, bambini, passeggini, famiglie, ragazzi perché il parco è bellissimo e c'è tantissima gente, sende gastronomici, cavalli, giostri, di tutto e di più. Ci fermiamo, riflettiamo e stiamo insieme. Parliamo di 150 bancarelle, quindi di privati cittadini che vengono con la famiglia, bambini, adulti, che vengono ad esporre le cose che avevamo buttato via. Le mettono in esposizione, chiunque può venire e passare, le prende e lascia un'offerta agli espositori. E quindi diciamo un atto concreto per far capire alle persone che non buttiamo ma ricicliamo, riusiamo e stiamo attenti alle cose che abbiamo. Per tutti c'è un ampio parcheggio creato attorno al campo del rugby, quindi chiunque viene con la macchina può parcheggiare tranquillamente a 50 metri dall'evento, parcheggio sicuro. La Gulliver in questi anni si è veramente distinta per il concetto del riuso, nel senso che questa è una festa di riuso che dura quattro giorni, quel palco scarpellini, ma in realtà è una politica che va verso il riuso che è a livello annuale, nel senso che loro hanno questo stabile che puntano al riuso dei vestiti, al riuso dei materiali, al riuso di quelli che sono i mobili. Quindi veramente un'economia non lineare ma un'economia circolare. Noi ci riempiamo sempre la bocca che è importante consumare meno materie prime che sono presenti oggi nel mondo e di riutilizzare quanto più possibile quelli che sono i materiali. Partiamo il primo giorno con tre eventi musicali, il primo gruppo ad intervenire sarà Livi e Magrini che sono un duo femminile, poi avremo un ragazzo che è un batterista, Francesco Tamburini, poi avremo la bellissima spilata organizzata da Gulliver con i vestiti del riciclo e quindi coinvolgeremo un pochino tutte le maestranze anche di Gulliver ma anche ragazzi, grandi, giovani, bambini, magri, grassi e in questo messaggio etico che anche la moda deve essere per tutti.